Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La showgirl Elisabetta Gregoracci è attualmente ricoverata in ospedale. Dopo aver annunciato ai suoi fan la notizia del suo ricovero, ha condiviso un nuovo aggiornamento tramite un video selfie dal suo letto ospedaliero. Nonostante non si senta ancora al meglio, ha voluto dedicare del tempo ai suoi follower per tranquillizzarli. Ieri, quando ha pubblicato un'immagine del suo braccio con un ago infilato, i suoi fan sono stati subito preoccupati. Nella didascalia, l'ex star del Grande Fratello ha spiegato di aver dovuto ascoltare il suo corpo e riposare, cosa che l'ha portata a essere ricoverata due volte negli ultimi giorni. Tuttavia non ha specificato il motivo dei suoi ripetuti ricoveri, lasciando i suoi follower in attesa di ulteriori dettagli. Nonostante ciò, il pubblico ha dimostrato il suo sostegno inviando messaggi di affetto alla Gregoracci, sperando in una sua pronta guarigione. Oggi Elisabetta ha voluto tornare sull'argomento rivolgendo un messaggio diretto ai suoi fan su Instagram, apparendo nel video sul letto dell'ospedale. La showgirl non ha paura di mostrare la sua attuale condizione di salute non ottimale e ringrazia tutti coloro che l'hanno sostenuta dopo aver appreso la notizia del giorno precedente. Successivamente Elisabetta ha fornito alcuni aggiornamenti sul suo stato di salute, dichiarando che, sebbene i progressi siano lenti, la sua condizione sta migliorando, portando un senso di felicità. Si avverte un'aria di ottimismo. Si spera che presto la showgirl possa tornare a casa, circondata dalla famiglia e pronta per intraprendere un nuovo progetto con la Rai. Buongiorno, desidero ringraziarvi per i messaggi affettuosi che mi avete inviato. Volevo aggiornarvi sul fatto che tutto si sta risolvendo gradualmente, cosa che mi riempie di gioia. Vi invio un caloroso saluto e ringrazio.